Sì, l'articolo 13,1 della proposta di giunta prevede che ci possono essere particolari progetti di qualità per cui vale la pena che queste attività aprano nella città storica del Sito Unesco. Noi qui chiediamo e proponiamo una serie di criteri da adottare in tutto e in parte per la scelta di questi esercizi commerciali, sicuramente tra questi ci sono le certificazioni di qualità, quindi prodotti DOP, IGP, DOCG, all'adozione dei modelli di organizzazione e gestione e controllo, avere un codice etico, non avere provvedimenti disciplinari o sanzionatori ai confronti di Roma Capitale. Noi riteniamo che questi criteri siano utili alla giunta poi per entrare nel merito di quali attività di qualità devono poter aprire e questo è una tutela di qualità per le attività che vorranno aprire magari non rispettando criteri di legge previsti che dovranno passare il baglio della giunta. Grazie.